buongiorno a 60 anni dall'azione di hitler la popolazione tedesca ha un nuovo leader che vuole ripercorrere la sua strada ma questa volta il suo obiettivo non sono più gli ebrei ma la giovane popolazione di clito il dittatore tedesco fotter sta preparando un massiccio attacco contro il clito e da fonti sappiamo che in possesso di una testata porcellanea i nostri radar ci hanno fornito immagini più che chiare che qualcosa si sta muovendo e l'attacco è ormai prossimo come potete vedere i tedeschi lo hanno grosso il missile un nostro incursore è già stato mandato sul luogo e prima di venire catturato ci ha mandato un messaggio hey man qui la situazione è calda vedo missili baracche un centinaio di soldati sono scappato mi stanno inseguendo mi hanno intercettato mentre salivo sul colle ho perso metà della mia attrezzatura compreso un pezzo della mappa dove era segnato il punto g ho ancora poche munizioni non so per quanto riuscirò ad esistere maledizione mi hanno trovato devo scappare venite a cercarmi aiuto il capo di clito ride è molto preoccupato e ha chiesto il nostro intervento verrete sganciati in un'area dove riceverete ulteriori dettagli la vostra missione sarà recuperare il nostro uomo ottimo osservatore molto abile nel tiro a distanza e un supporto essenziale per lo svolgimento della missione dopo averlo recuperato dovrete individuare il covo degli scienziati tedeschi dove stanno mettendo a punto le sostanze chimiche che gli mancano per poter armare la testata e ovviamente recuperarle le stesse sostanze saranno anche in grado di innescare l'esplosivo che alcuni dei nostri hanno sganciato in un luogo non ben definito nel territorio nemico si tratta del punto g segnato sulla mappa che il nostro incursore aveva con sé ultimo ma non meno importante sarà disinnescare la testata del missile e farla esplodere fate molta attenzione durante la missione perché i soldati tedeschi sono molto agguerriti e non vi renderanno la vita facile ma voi siete i migliori il corpo scelto dell'esercito americano e non dovreste avere problemi ad aprirvi un barco tra linee nemiche il conto alla rovescia è già partito non riduciate oltre